Ciao, sono Dino, seguo tutta l'area tecnica e sono qui oggi con il mio titolare per passione per le turbine, per l'off-road e tutto quello che riguarda la sovraimentazione. Sono Stefano, gestisco la site, abbiamo qui un po' di persone con noi, siamo venuti al Rimini Off-Road perché è il primo evento, quindi è una cosa che ci interessa vedere, capire, la passione ce l'abbiamo messa tanta, seguiamo la sovralimentazione, quindi nel mondo del 4x4, soprattutto le vecchie blasonate vetture hanno bisogno di un po' di aria in più, noi siamo quelli che danno l'aria. Crediamo parecchio in questo evento, quindi siamo qua per metterci tutta la nostra grinta, sperando che poi il prossimo anno vada avanti e ci siano altre persone. Rimini è una location fantastica, il periodo è spettacolare, tra l'altro il tempo ci sta aiutando. Fuori ci sono esibizioni con vetture, quindi c'è anche dinamica, che è quello che è un po' il carattere della Saito. Vediamo come va e speriamo di essere qui di nuovo il prossimo anno tutti insieme.